Registriamo oggi una grande virtuosità da parte dei paesi. I paesi che si sono impegnati con politiche nazionali proprie per ridurre le emissioni di CO2 sono a questo momento 161 che rappresentano il 96% delle emissioni di gas serra. È un dato molto importante se noi pensiamo che i paesi che si erano impegnati a ridurre le proprie emissioni a chiotto rappresentavano solo il 12% delle emissioni. Quindi un grandissimo passo in avanti è stato fatto. È vero, d'altra parte però, che queste politiche non sono ancora sufficienti a raggiungimento di quello che noi consideriamo l'obiettivo minimo, cioè la riduzione di almeno due gradi del surriscaldamento del pianeta. Questi obiettivi ci portano al 2,7. L'Italia andrà a Parigi chiedendo a tutti i paesi di essere ancora più virtuosi di quello che hanno dimostrato finora.